Buongiorno, buongiorno amigli, ecco il video che stavate per aspettando, il video sul calciomercato della Fiorentina con tutti i nomi segnati su pregiata carta da formaggio. Andiamo così in surplus, con arroganza, senza arte né parte, va bene, ma con competenza, a sentenziare su questi nomi che sono stati fatti tra ieri e oggi, trattative sfiorate, snasate, palpate, così e via dicendo, portate a termine e continuo quel famoso discorso di chiesa che vi introdussi tra ieri e stamattina, perché è un qualcosa di ferale. Però prima di iniziare vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, a condividerlo, va bene, mi raccomando, fate iscrivere quanti più tifosi della Fiorentina conoscete e vi invito anche a scaricare OneFootball, l'applicazione che vi lascio in descrizione e che in queste ultime ore di mercato vi può essere veramente utile perché vi aggiorna in tempo reale su tutte le trattative, sugli stati dell'arte che ci sono in circolazione, insomma sulle ultime voci, su arrivi, cose e via dicendo. Allora, io mi sono segnato ben sette nomi, ok? Che sono quelli che nelle ultime ore girano più di tutti in ambito fiorentina. Però voglio iniziare da quello simbolico, da quello che apre la pista, secondo me, a tutto il bailam a cui abbiamo assistito tra ieri e oggi e che si ricollega proprio al discorso di chiesa. Cuamè. Perché? Allora, io quando ho letto il nome di Cuamè e ho letto che è quasi fatta perché oggi il giocatore sta facendo le visite mediche, se non sbaglio, con la Fiorentina, ho detto ma perché la Fiorentina va a comprare un giocatore che sai non essere a disposizione per quest'anno? Perché il giocatore si è rotto un crociato e tornerà a disposizione solo l'anno prossimo. Perché lo vai a prendere per l'anno prossimo? Oltretutto in un ruolo in cui abbiamo già, se continuiamo a giocare con le due punte, che dopo l'arrivo di Cutrone secondo me è una cosa abbastanza scontata o comunque razionale, in attacco abbiamo Vlaovic, Cutrone, Ribery, Chiesa contandolo come attaccante visto che viene fatto giocare così. Boateng, Sottil, Cuamè. Sette giocatori per due posti per una squadra che probabilmente non farà l'Europa, sono un sacco, ok? Allora, lasciando stare Boateng, va bene che non lo conto neanche, anche se l'abbiamo in rosa possiamo non contarlo, sono comunque sei giocatori. Allora, tra questi sei andiamo a vedere le situazioni più esiziali. Allora, Ribery non credo vada via o gli venga resciso il contratto perché è una cosa fuori dal mondo, guadagna tanti soldi e anche a livello di presenza rimarrà sicuramente anche l'anno prossimo. Vlaovic non credo che tu lo ceda. Cutrone l'hai appena comprato con obbligo di riscatto, quindi resta. I più papabili, diciamo, per la partenza secondo me sono Sottile Chiesa e vi dico la mia, che si ricollega proprio al discorso di ieri. Secondo me l'acquisto di Cuamè è proprio funzionale ad una cessione di Chiesa che ormai viene data, diciamo, come per assodata. Cioè, il ragionamento è questo. Quest'estate io vendo Chiesa, ok? Ho un gruzzolo di risparmio, di soldi che mi arrivano da reinvestire. Una parte di questi li reinvesto già adesso andando a cercare di prendere le occasioni o giocatori che possono essere funzionali anche in vista dell'anno prossimo. Cuamè secondo me si spiega proprio per questo. Tu vai a prendere anche sotto costo, perché per 10 milioni può essere una buona operazione, anche se dopo vi dico la mia. Vai a prendere oggi a gennaio un sostituto di Chiesa, quando avendolo preso magari a giugno con il giocatore in forma o prima ti sarebbe costato di più. È semplicemente sfruttare un'occasione di mercato dando per assodata la cessione di Chiesa, ok? In teoria Cuamè può essere perfettamente il sostituto di Chiesa o comunque un giocatore che ti va a rimpinguare la zona offensiva. Ecco, questo ragionamento qua secondo me è buono come base di partenza. Nel senso che è da mesi qui che diciamo che Chiesa andava e va ceduto perché la sua esperienza, la fiorentina è finita e per certi versi sta anche bloccando a noi a livello tattico e lui a livello di carriera, ok? Però io non sono tanto d'accordo sull'andare a fare questi affari, la sessione di mercato prima per quella dopo, andando a comprare oltretutto un giocatore che è pure rotto, ok? Che è pure rotto dopo l'esperienza di Pedro io avrei evitato. Io sono per gli affari fatti in contemporanea, Chiesa lo cedi d'estate, bene, vedi d'estate cosa c'è a disposizione per sostituirlo, che è anche un mercato più aperto, è un mercato in cui saprai chi sarà il tuo mister, in cui puoi avere delle idee tattiche e tecniche per scegliere il sostituto. Il Cagliari ha ceduto a Barella in estate e i sostituti li ha trovati in estate, ha fatto una brutta squadra, non mi pare, non mi pare. Quindi stasmania di andare, anche perché può essere rischioso, perché a meno che tu non abbia già trovato una squadra in cui Chiesa andrà a giocare, cioè a meno che tu non l'abbia già ceduto a una squadra X, che pure può essere, anche se non è uscito niente, mettere così in preventivo, in sicurezza l'accessione del giocatore può essere un'arma a doppio taglio, perché a parte che per le prestazioni che sta sciorinando non so se ci sia la fila, ma soprattutto non so se ci sia la fila ha dei costi buoni, capito, sia per le operazioni che hai fatto, sia rispetto a quello che potresti potenzialmente ottenere dal giocatore. Ecco che allora il discorso su Chiesa fatto ieri può essere valido, nel senso che col giocatore può essere stato raggiunto un gentleman agreement, no? E si spiegherebbero anche le parole di commisso un po' più morbide, del tipo vediamo che occasioni ci saranno, vediamo cosa il giocatore vuol fare e via dicendo. Il gentleman agreement può essere questo, io resto a Firenze, gioco, mi metto a disposizione, però gioco davanti e non come esterno a tutta fascia, cosa che Montella avrebbe voluto fare, secondo me ricevendo probabilmente ostracismo, ok? Da parte magari del giocatore, io resto fino a fine anno, gioco davanti come attaccante, mi valorizzo, divento un giocatore magari che viene notato, che segna di più, che va all'europeo e a fine stagione, inizio estate, ci salutiamo e vediamo che squadre portano le offerte, magari ci impegniamo anche noi per farle arrivare e tanti saluti. Questo secondo me è la condizione essenziale che spiega l'acquisto di Kwame e questo andare su diversi giocatori, perché si mette in preventivo la cessione di Chiesa e attenzione, forse anche quella di qualcun altro, non lo escluderei, tipo un Milenkovic, spero di non un Castrovilli, ma di un Milenkovic per esempio non me ne stupirei, ok? Per quel che riguarda Kwame in sé e di per sé, a me è un giocatore che l'anno scorso piaceva molto, un giocatore che ha delle possibilità, se deve essere il sostituto di Chiesa, sì e no, nel senso che probabilmente c'erano dei giocatori più funzionali, io quest'estate avevo suggerito un Castiglieco, per esempio, per andare a coprire un 20 milioni di quei 50 e 60 che quest'estate potevi fare dalla sua cessione, Kwame è più un attaccante, può giocare a due punte, forse anche a tre come esterno, l'anno scorso mi piaceva, quest'anno ha avuto un inizio non brillantissimo, ma è vero anche che tutto il Genoa non ha brillato quest'anno e poi si è infortunato. Vediamo, se torna il giocatore di 1-2 anni fa può essere funzionale, non un fenomeno, ma un giocatore che può andare bene, l'hai anche pagato poco, 10 milioni più 5 di bonus per quello che valeva il giocatore l'anno scorso sono pochi, ma questo mi fa un po' insospettire, nel senso che magari l'infortunio è grave, non lo so, comunque ripeto, il giocatore visto un anno fa è molto buono, bisogna vedere come torna, in che schema torna, con che allenatore torna, in che Fiorentina torna. Il prezzo comunque mi pare almeno quello buono e sicuramente buono. Veniamo a Igor. Igor pagato oltretutto tanto perché si parla di 8 milioni in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per 8 milioni, per quello che in teoria dovrebbe essere un difensore di riserva, ok? Però 8 milioni per una riserva, per una squadra che non fa l'Europa, sono tantini. Chissà che magari, discorso Milenkovic, un po' da tenere d'occhio. Se lo compriamo per fargli fare la riserva, non giudico il giocatore che non conosco bene, può anche essere buono, se viene quotato così magari ha una buona speranza, lo vedremo in azione, sospendo il giudizio, ma se viene comprato per fare la riserva, ad oggi onestamente avrei evitato, perché non sei più in Coppa Italia, hai solo il campionato dove non è che hai chissà cosa da dire, 8 milioni, piuttosto confermavo Ceccherini, che tanto voglio dire per arrivare a fine anno può anche andare bene, mi tenevo Ranieri, Venuti e stoppinavo su con loro, che con la scusa mi provavo anche Ranieri e Venuti, come valutazione definitiva. Abbiamo preso Stuigor per 8 milioni, vediamo, se deve fare la riserva, ripeto, spendere 8 milioni per una riserva personalmente avrei evitato, speriamo che sia un buon prospetto, speriamo. Amrabat, allora, io sto facendo questo video in un momento in cui l'accordo non è ancora raggiunto, perché il Verona vorrebbe un po' di più di quello che offre la Fiorentina. Dovesse arrivare per giugno, secondo me è un'operazione, ripeto, volta a quella probabile ricostruzione o risistemazione della Fiorentina post-Chiesa. Amrabat è un giocatore che mi piace, nel senso che ci può stare. Io vi ripeto, sono contrario alle operazioni fatte in fretta, la sessione prima per quella dopo, magari basate solo su dei buoni mesi di un giocatore. Io sono contrario a queste operazioni qua, però se valutiamo il giocatore in sé e di per sé, è l'anima del centrocampo del Verona, che è una delle più belle sorprese del campionato, è un buon acquisto, è un buon acquisto. Mi fa anche piacere che il giocatore voglia venire alla Fiorentina da quel che ci dicono, da quel che narrano le cronache, quindi l'acquisto di Amrabat, secondo me, ci può stare, poi vedremo se sarà fatto, a che cifre, però tecnicamente niente da dire. Può essere quel famoso giocatore, quel famoso acquisto alla Cutrone da 15-20 milioni di euro valendoli, che può essere funzionale a una Fiorentina di livello discreto o comunque apprezzabile. Veniamo agli altri nomi. Duncan. Duncan oggi in teoria dovrebbe esserci l'incontro per sbloccare sta trattativa, l'interesse però per altri giocatori, addirittura si parlava di Wanyama, dello stesso Pacchettà di cui poi parliamo, mi fa presagire a un po' di difficoltà sulla trattativa, vediamo se oggi saranno sbloccate. Duncan a 15 milioni. Per me sono tanti, specie se consideriamo che abbiamo ceduto Veretù per 17-18 circa. È un giocatore che non mi fa impazzire, onestamente eviterei. Mi pare un giocatore più muscolare che altro, di intensità per carità, però non mi entusiasma. Non so se sia un'operazione su richiesta di Iachini o no. Se è su richiesta di Iachini spendi 15 milioni, a quel punto per un allenatore che devi tenere anche l'anno prossimo. Perché se compri Duncan su richiesta di Iachini e spendi 15 milioni, devi stare attento, devi stare. Anche per questo avrei onestamente evitato. Non avrei evitato l'acquisto di Duncan, sapete che io sarei andato su un altro giocatore tipo Fofanà, che non credo sarebbe costato tanto di più. Non credo, non credo. Ecco, se tu avessi risparmiato i soldi di Igor e di Duncan, se arrivano tutti e due per comprare un Fofanà, io ci avrei messo la firma onestamente. Poi bisogna vedere perché anche lì, molti probabilmente saranno con obbligo di acquisto in estate, sempre per il discorso di chiesa e via dicendo. Però, se dobbiamo ragionare dal lato tecnico, così. Quame ho già parlato. Paquetà. Paquetà magari, nel senso che è un giocatore che a me piace. La vedo dura che arrivino tutti questi centrocampisti. Secondo me, di questi tre nomi che si fanno, probabilmente se ne chiuderà uno o due. Paquetà mi piacerebbe. L'ideale sarebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ovviamente. Anche a una cifra alta. Anche a una cifra alta per venire incontro al Milan. Poi, in base alle prestazioni, a giugno decidi cosa fare. Giocatore che mi piace. Non per niente lo consigliai, tra virgolette, anche alla Juve, perché credo che le potenzialità le abbia. In un 3-5-2, secondo me, sarebbe un pelino svalutato, ma ci potrebbe anche stare. Ripeto, è un giocatore che mi piacerebbe vedere a Firenze, perché abbina comunque una certa fisicità, una certa tecnica, qualità, potenzialità di crescita. È nazionale, brasiliano. Mi piacerebbe. E poi, quando si parla di esuberi del Milan, io sono sempre d'accordo. Per esempio, un altro giocatore che avrei preso, anche lì, contando su una cessione di chiesa, e quindi munendoti non di un altro attaccante, ma di un esterno sinistro a tutta fascia, Rodriguez del Milan. Io, Rodriguez del Milan, vi dico, l'avrei preso. Ve lo dico similmente a quanto ho detto su Castiglieco quest'estate. Io, Rodriguez del Milan, l'avrei preso, perché Firenze sarebbe stata la dimensione ideale. con uno schema, lui congeniale, avrebbe potuto godere dell'ambiente di cui ha goduto a Wolfsburg. Io l'avrei preso, onestamente, Rodriguez del Milan. Quindi, Paquetà ho detto, crescito, ieri si è sparsa sta voce di crescito, che è possibile che arrivi. Penso, però, sia un attimo in conflitto col discorso di Igor, razionalmente. Ma, se è vero che il giocatore si è opposto al trasferimento, non vuole, dice, voglio restare al Genoa, stia dove stia, onestamente un buon giocatore, ma gente che non ha voglia di venire, no, anche no, anche no. Baselli, ultimo nome di cui si parla, un giocatore che non mi ha mai detto granché, onestamente. mi pare un giocatore un po' discontinuo, un po' precario, un po' leggerino, simile a Benassi, un po' più tecnico, e meno di, diciamo, di trequartismo. Non mi fa impazzire, onestamente. Oltretutto, credo che costerebbe anche abbastanza. Non è un giocatore che mi fa impazzire. Credo sia un pelo sopravvalutato. Eviterei, eviterei. Quindi, ricapitolando, questo bello recap di mercato. Igor, vediamo, ma avrei evitato. Amrabat, non mi piacciono le operazioni fatte la sessione prima e per quella dopo, ma può andare bene. Duncan, eviterei. Quame, c'è tutto quel discorso su chiesa che vi ho fatto. Vediamo, vediamo. Si poteva, diciamo, se è il sostituto di chiesa, si poteva anche aspettare. Questa è la summa. Paquetà, mi piacerebbe. Criscito, anche no. Baselli, eviterei. Queste le mie sentenze, un caro saluto. E ditemi, ovviamente, la vostra.